Siamo con Linda Zinger e Danter Selva, ieri immagino particolarmente felice per la vittoria di Doroteavira. Sì, sicuramente. C'erano emozioni grandissime perché ho guardato quella gara con la mia sorella e poi sono andata a Magda, la sorella di Doro, e era bellissimo. Senti, invece parlando di te, com'è stato il ritorno a scuola? Perché sei stata, vieno detto, a sette per un bel po', visto che hai fatto quasi la carriera da professionista in questo periodo. Sì, c'era tanto da fare anche a scuola perché sono tornata dopo l'Ioc, poi quattro giorni a scuola, ho fatto tutte le verificazioni, ogni giorno due, tre cose, e poi sono tornata adesso dopo i mondiali. No, ma c'era, sì, non era così tanto come prima. Senti, ma a livello mentale com'è stato questo periodo per te? Perché comunque non era facile, no? Affrontare prima l'Olimpia del Giovanile e successivamente il Mondiale Giovanile. Appunto, hai vissuto un periodo quasi da professionista in qualche modo, no? Come se facessi Coppa del Mondo, Coppa del Mondo. Quindi volevo chiederti com'è stato mentalmente. Sì, era stra difficile perché sono tornata, sono stata stanca, stanca, vero, molto stanca. E poi, sì, siamo andati all'Enterheide e sì, le prime gare non erano così bene perché sugli sci non sono stata così bene. Sì, poi allo sprint ho pensato solo a fare la mia cosa e andare come a tutta, sì. Vi direi che sia andata bene a tutta, insomma, quando sei arrivata e hai visto quel tempo penso che quasi non ci credevi. Eh, no, sicuramente di no. Senti, cosa significa però per te aver vinto? Tante medaglie adesso già ai Mondiali Giovanili, aver vinto anche due medaglie all'Olimpia di Giovanile. Te lo aspettavi all'inizio della stagione? No, ma sicuramente di no, ho aspettato solo. Ho sperato andare alle gare, a fare quelle gare, ma non ho mai pensato a fare delle medaglie. La cosa che mi ha colpito è che da inizio stagione tutti i tuoi compagni avevano fiducia di te. Sì, perché veramente mi ha impressionato sentire Tommaso Giacomelli di De Bionez, guarda che Linda Zingerle è veramente forte. Ti fa piacere sapere di avere tanta fiducia anche da parte dei compagni? Eh, sì, sicuramente. Senti, l'altro giorno abbiamo intervistato Dorotea Vira e ha dato un consiglio, che era quello di, sì, pensare a Pietro, ma non soltanto al biathlon. Lo segui? Sì, sì, ho anche delle amiche fuori dal biathlon che non sanno cos'è il biathlon e quello mi piace perché loro non vengono, come è andata la gara, cosa hai fatto, perché hai fatto così, eh sì, mi piace. Senti, quanto è importante per te anche a volte staccare la spina, non pensare soltanto al biathlon, al futuro? Sì, penso che è molto importante non sempre pensare al biathlon perché se pensi sempre al biathlon poi sei dentro così che non vai mai fuori, sei nel tunnel, non so come, sì, ma devi anche vedere il mondo così com'è, non solo il biathlon. Però l'ultima cosa te la faccio sul futuro nel biathlon perché stai vivendo questo mondiale di Anterselva, eri piccolissima quando c'è stato quello precedente, non credo magari che te lo puoi ricordare troppo e bene, quindi volevo chiederti se ti ha messo ancora più voglia però di sognare anche di esserci magari già nel 2026, sarai ancora giovane però non si sa mai. Non si sa mai ma spero che va avanti così, ma guardiamo come va in prossime gare, sì. Grazie a tutti.